E scontro ad Andrea sulle modalità di svolgimento della Festa dei Santi Patroni. In ambito religioso, tutto è stato organizzato con celebrazioni liturgiche, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e senza momenti che potrebbero creare assembramenti, compresa la tradizionale processione. In ambito folkloristico, invece, sono ore calde. Nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti di categoria di ambulanti e giostrai per provare a trovare un punto d'incontro sullo svolgimento della consueta Festa Patronale Andriese, che negli anni scorsi si è svolta tra Corso Cavour e Via Martiri di Belfiore. Durante l'incontro, dei toni accesi, si sono contrapposte diverse valutazioni rispetto alle modalità di svolgimento. L'amministrazione ha scelto di spostare gli stand degli ambulanti in largo ceruti per ampliare quanto più possibile gli spazi ed evitare assembramenti che potrebbero portare a nuovi contagi. Ad Andria, hanno spiegato, da Palazzo di Città ci sono più di 300 contagi attivi, fattore da tener conto. Nella nuova area scelta, ha aggiunto l'assessore all'attività produttiva Cesare Troia, sarà possibile rispettare tutte le norme sanitarie. Discorso diverso, invece, per i giostrai con il Luna Park di Via Martiri di Belfiore, a cui l'amministrazione ha già comunicato che non ci sarà. Troppo rischioso, secondo Palazzo di Città, soprattutto perché in corrispondenza del nuovo anno scolastico, vista la grande affluenza di giovani nell'area delle attrazioni viaggianti si potrebbero correre rischi troppo elevati. Chi ci sarà, invece, durante la festa sono le bancarelle che vendono i torroni, circa dieci le postazioni che saranno trasferite in Piazza Katuma sulla scia di quanto fatto in occasione del Festival del Tranocelle. Decisioni che tuttavia non sono andate giù alle associazioni di categoria e anche i giostrai che vorrebbero, invece, il regolare svolgimento della fiera come in era pre-pandemia. Diversamente comporterebbe un grave danno agli esercenti. Venerdì mattina gli ambulanti si incontreranno davanti al comune di Andria per esprimere il proprio dissenso.